I manzoni e i promessi sposi hanno un ruolo così colossale nella storia della letteratura italiana e anzi nella storia della nazione italiana che inevitabilmente tutti gli italiani si imbattono in loro a scuola. Di manzoni tutti gli italiani hanno sentito parlare a scuola e molti hanno letto delle cose a scuola. Questo è inevitabile però è anche credo drammatico perché manzoni ha alcune caratteristiche che secondo me lo rendono necessariamente poco piacevole se non del tutto antipatico dal punto di vista di un teenager. Non so se questo valga anche per i 15 anni o i 17 anni di oggi perché non li conosco. Certamente valeva per quelli di 40 anni fa, 45 cioè quando io ho letto manzoni a scuola. Voglio dire che il manzoni quella che all'epoca era l'assoluta modernità della sua lingua ovviamente oggi non si percepisce più e anzi specialmente nella sua poesia si percepisce come dire qualcosa che agli occhi di un ragazzo stavo per dire di nuovo di un ragazzo di oggi, mi correggo, di un ragazzo di 45 anni fa appariva assolutamente vecchio, pomposo, retorico, cosa che non è in verità probabilmente e non era certamente al tempo del manzoni ma sto solo facendo questa premessa per dire che probabilmente molti di noi del manzoni a scuola si sono fatti un'idea sbagliata. Ecco sono tutte cose che secondo me i 17 anni non sono il momento migliore per capire queste cose e per entrare in sintonia con queste cose. In realtà scordatevi il fatto che a scuola vi siete annoiati leggendo gli inni sacri o i promessi sposi perché qui noi siamo di fronte a un personaggio e a un libro che sono cruciali per capire il nostro paese. Io sono del parere per esempio che bisogna smettere di far leggere ai ragazzi i promessi sposi ma no ma ve lo dico sinceramente perché cosa succede? Cos'è quello? È un romanzo bellissimo scritto in una maniera folgorante, è una grande letteratura ma non puoi dare un ragazzo reale il messaggio che quello che conta nella storia lo fa a provvidenza tu non conti un tubo. Tu conti nella misura in cui agisci nel mondo e nella storia. Ecco questo messaggio che c'è comunque un disegno superiore che risolve tutti i problemi ma non c'è questo disegno o ti dai da fare o non ti dai da fare. Ciao! 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 Ciao!